Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, affinché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Immacolata, Sposa dello Spirito Santo, prega per noi. Ave Maria, siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, buona e santa giornata, rieccoci per questo nostro secondo appuntamento sul diritto canonico. La scorsa settimana abbiamo parlato del diritto in generale, oggi parleremo del diritto canonico, cioè del diritto della Chiesa, perché la Chiesa è una società, è un insieme di uomini con una medesima finalità. La finalità è la salvezza dell'anima, voluta dal fondatore. E appunto, come abbiamo visto la settimana scorsa, ubi societas ibi ius. Dove c'è una società c'è un diritto, c'è il diritto, perché quando ci sono delle relazioni tra esseri umani c'è sempre qualcosa che appartiene a qualcuno e che qualcun altro ha il dovere di rispettare. Dove esiste un diritto, dove esiste qualcosa che appartiene a un individuo, c'è un corrispettivo dovere negli altri di rispettare quel diritto per appunto praticare la virtù della giustizia, che come abbiamo visto la scorsa settimana è dare a ciascuno il suo. La Chiesa è una comunità spirituale e questo evidentemente può essere compreso solo alla luce della fede, riuscire a comprendere effettivamente la dimensione spirituale della Chiesa, che è portatrice della grazia e della vita divina. Ma anche senza la fede, essa si presenta in effetti nel mondo come un organismo visibile e sociale, radicato in un modo veramente forte nello spazio e nel tempo. Sono duemila anni che c'è la Chiesa, che la Chiesa attraversa i flutti del tempo, gli stati nazionali passano, le forme di governo cambiano, ma la Chiesa sono duemila anni che è lì e sin dalle sue origini e quindi per volontà stessa del suo fondatore, che è Gesù, che l'ha istituita, è dotata di organizzazione, di norme proprie e di un sistema di diritto che è conosciuto con il nome di diritto canonico. Questo nome canonico viene dalle prime regole date nei primi concili, che erano i sacri canoni. Canone è un termine greco che viene appunto dal greco, canon, che vuol dire bastone, vuol dire regolo, cioè era il bastone, la canna che gli artigiani usavano come metro di misura, come regola. E appunto quel bastone, quella misura, quel canon misura è presa dai santi padri come termine per definire quelle regole che di volta in volta i concili emanavano e che erano raccolte appunto nelle raccolte dei sacri canoni per questo diritto canonico, cioè il diritto della regola, la regola ecclesiastica. La dottrina canonica ha sempre considerato il diritto come un fattore essenziale per la Chiesa in terra, cioè per la Chiesa in questo mondo. San Giovanni Paolo II dice che il diritto è connaturale alla vita stessa della Chiesa. Questo dovrebbe essere chiaro se appunto, come abbiamo visto la scorsa settimana, il diritto è nella natura stessa dell'uomo, delle relazioni sociali che esso intesse. E quindi appunto la Chiesa, essendo una società, è di esseri umani con un determinato fine comune, ecco che il diritto si inserisce nella connaturalità della sua stessa vita. Quindi l'ordinamento canonico, cioè le leggi canoniche, non sono un residuo di pretese temporalistiche della Chiesa, cioè del volere della Chiesa di dominare in questo mondo, degli uomini di Chiesa di dominare in questo mondo, né anche una sovrastruttura o una aggiunta puramente umana al popolo di Dio. No, il mistero della Chiesa, che è una realtà divino-umanica, umana, quindi teandrica, è proprio in quanto realtà divino-umana, il mistero della Chiesa ha nel suo interno proprio questo, proprio il diritto. È stato Gesù stesso a stabilire il suo regno in questo mondo come un corpo sociale e visibile, ha chiamato dei discepoli, alcuni li ha nominati apostoli, li ha costituiti apostoli, ha fatto lui la diversificazione di compiti, c'era uno che era cassiere tra i dodici apostoli, era Giuda, teneva la cassa per tutti, aveva un ruolo, c'erano ruoli differenti e ed è Gesù stesso che ha stabilito questi ruoli differenti e che ha voluto costituire il suo popolo in unità. Peraltro appunto il comandamento che ci ha lasciato è che ci amiamo gli uni gli altri, che ci amiamo gli uni gli altri, cioè ha voluto proprio che fossimo una compagine sociale, lievito per questo mondo. E quindi è Gesù stesso che ha conferito alla sua Chiesa un ordinamento, un ordine e quindi un diritto, fare non fare e dove c'è un diritto ci sono appunto anche doveri e quindi la Chiesa nel suo nucleo più essenziale e specifico per volontà del fondatore è una realtà giuridica e l'ordinamento giuridico della Chiesa è detto appunto diritto canonico. I fondamenti del diritto canonico sono appunto nella volontà di istituzione del suo fondatore, di Gesù stesso, è il carattere societario e gerarchico del popolo di Dio, carattere societario che come abbiamo visto è voluto da Dio e gerarchico perché ha all'interno un suo ordine. Gerarchia peraltro è un termine anche questo greco composto da due parole hieros e archè, hieros sacro, archè principio, quindi è qualcosa che viene da Dio, dal fondatore. Quindi il corpo mistico di Cristo in questo mondo è la società dotata di organi gerarchici che come dice Lumen Gentium al capitolo 8 non si devono considerare due realtà diverse, cioè il corpo mistico di Cristo e la società dotata di organi gerarchici, cioè la Chiesa visibile, ma esse formano piuttosto una realtà complessa nella quale si trovano uniti l'elemento umano e quello divino. Quindi tutto ciò presuppone l'esistenza di un ordinamento perché l'istituzione divina della gerarchia e i poteri ad essa affidati comportano una serie di relazioni giuridiche con corrispondenti doveri e diritti come quelli che comportano il Ministero dei Pastori e che richiedono un'adeguata disciplina, un ordine per lo stesso fatto che l'unica Chiesa di Cristo sia costituita e ordinata in questo mondo come società si esige necessariamente un ordine giuridico, essendo appunto l'ordine giuridico e il diritto una caratteristica propria di qualsiasi società. Quindi ecco che è legittimato l'esistenza del diritto canonico, ma quali beni norma questo ordinamento? Qual è l'oggetto fondamentale delle normative del diritto canonico? Quali sono questi oggetti fondamentali? Per una certa parte il diritto canonico si occupa anche di questioni legate che sono vicine a ciò di cui si occupa il diritto del secolo, il diritto degli stati, per esempio i beni ecclesiastici, oppure la retribuzione di coloro che operano all'interno della Chiesa, sono cose che fanno parte del diritto anche civile, ma per un'altra parte ci sono dei beni che sono normati dal diritto canonico e che ne costituiscono l'elemento essenziale, cioè principi fondamentali del diritto canonico. E questi sono essenzialmente tre, cioè la parola, i sacramenti e i carismi. La parola è il Vangelo, la parola che Dio ha affidato alla sua Chiesa, è necessaria affinché gli uomini si avvicinino alla fede della Chiesa. Fides ex audito, dice la lettera ai Romani, cioè la fede viene dall'ascolto. Dall'ascolto di cosa? Dall'ascolto della parola, dall'ascolto del Vangelo. Peraltro la stessa parola ci dice che essa non è soggetta a privata spiegazione, dice San Pietro nella sua seconda lettera. Sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione. E quindi c'è una spiegazione legittimata. Cristo ha affidato la custodia della sua parola alla Chiesa e attraverso la missione conferita a Pietro e agli altri apostoli e poi ai loro successori ha istituito l'ufficio del Magistero, dell'insegnamento ufficiale, dell'insegnamento legittimo con il fine di garantire la custodia della parola e la sua diffusione. È Gesù stesso che manda agli apostoli come il Padre ha mandato me, io mando voi. A cosa fare? A predicare il Vangelo, a predicare il Vangelo, non a predicare una vostra fantasia, ma il Vangelo. Dice San Paolo, ciò che vi ho trasmesso, ciò che io stesso ho ricevuto. La parola, il Vangelo, non appartiene ai pastori, i pastori ne sono tramiti, la Chiesa ne è custode, custode e fedele trasmettitrice, fedele interprete. Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, è fedele interprete. Ecco perché la trasmissione della parola, l'insegnamento della parola, la custodia del Vangelo è soggetto appunto al ordinamento canonico, al diritto canonico. La parola di Dio ha una implicazione giuridica non solo per la missione che è data da Gesù agli apostoli, ma anche in se stessa in quanto in se stessa ha una dimensione normativa e giuridica, cioè quando Gesù dice fate questo, non fate questo, avete inteso che fu detto, ma io ora vi dico, no? Da norme che la Chiesa deve rispettare, trasmettere. Anche qui in questo c'è una dimensione appunto giuridica e per questo la Chiesa deve conservarla e annunciarla fedelmente, perché come dicevamo non appartiene alla Chiesa o ai pastori la parola di Dio, ma il Signore ha affidato la sua parola alla Chiesa perché venga custodita e trasmessa. Questo permette di comprendere diversi elementi del diritto canonico, cioè il consenso che devono prestare i fedeli all'insegnamento del magistero autentico, dell'insegnamento autentico dei pastori, il diritto dei fedeli a ricevere un'educazione cristiana, cioè di ricevere la parola integralmente, è un diritto dei fedeli, che se io andassi sul pulpito e nell'omelia dicessi idee mie, idee politiche, io sto tradendo il diritto dei fedeli di ricevere la parola di Dio, non c'è un diritto dei fedeli nel ricevere la parola mia, no? C'è il diritto dei fedeli di ricevere la parola di Dio e c'è un dovere del pastore non di dire le parole sue, le idee proprie che sono contrarie alla parola di Dio, secondo me è così, no? C'è un dovere dei pastori di trasmettere integralmente la parola di Dio, il Vangelo, così come l'hanno ricevuto, così come l'hanno ricevuto dal fondatore, vedete? È una questione essenziale questa. Secondo bene essenziale, fondamentale, su cui diciamo così ruota gran parte del diritto e su cui un principio fondamentale del diritto sono i sacramenti, cioè i mezzi attraverso i quali la Chiesa cresce e si struttura, secondo il disegno del suo fondatore che è Gesù. E tanto in essi, cioè tanto nei sacramenti, quanto nella parola stessa c'è il fondamento ecclesiologico del diritto canonico e della sua giuridicità, cioè il fatto che il diritto canonico è una realtà a sé stante, legittima e indipendente. Quindi perché i sacramenti sono realtà fondante il diritto canonico? Per il loro stesso carattere, cioè per ciò che sono realmente. Cosa sono i sacramenti? Sono segni sensibili di grazia istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, cioè producono la grazia divina nell'anima ex opere operato e Gesù ha affidato questi mezzi alla Chiesa e attraverso di essi ci viene elargita la grazia e dunque la vita divina in se stessi posseggono le caratteristiche giuridiche della esteriorità, cioè sono segni sensibili dell'alterità, cioè presuppongono l'esistenza di un ministro, di qualcuno che li amministri e di qualcun altro che li riceva e anche di esigibilità, cioè bisogna rispettare le norme dati per essi da Cristo, non è che me li posso inventare. E poi perché essi sono stati istituiti da Cristo, appunto perché avessimo la vita divina e quindi a beneficio dei fedeli e nel caso del battesimo a beneficio dell'essere umano in se stesso e non sono proprietà, non sono proprietà del ministro, dei preti, dei sacerdoti, non sono proprietà di nessuno, sono proprietà di Dio, sono dati da amministrare alla Chiesa e quindi la loro amministrazione comporta esigenze di giustizia, cioè diritti e doveri. Infatti se il soggetto che richiede il sacramento è debitamente disposto, un ministro non può negarglielo, fa grave ingiustizia. E poi perché i sacramenti producono ex opere operato effetti ontologici e giuridici. Perché? Perché per esempio attraverso il battesimo si diventa fedele nella Chiesa, si entra a far parte della Chiesa e entrando a far parte della Chiesa si diventa titolari di tutta una serie di diritti nella Chiesa e anche di doveri. Terzo, ultimo principio fondamentale su cui appunto i beni, bene peculiare del diritto canonico sono i carismi, cioè le grazie che lo Spirito Santo fa alla Chiesa e che hanno direttamente o indirettamente una utilità ecclesiale. Per esempio i carismi della vita consacrata che sono doni che lo Spirito Santo fa alla Chiesa per la santificazione dei fedeli, per il bene di tutta la Chiesa. Anche i carismi vanno riconosciuti e vanno normati. Non è che io mi sveglio una mattina e dico sono un fondatore, adesso questa è la nuova vita evangelica. Perché? Perché facilmente finisco nel mio arbitrio. Chi mi garantisce dalla libertà dell'arbitrio mio e chi garantisce coloro che mi seguiranno dal mio arbitrio? La legge superiore, una legge della Chiesa, il Magistero della Chiesa, chiamato a normare, riconoscere e governare. I carismi autentici possono generare diritti e doveri e non poche volte danno luogo a nuove istituzioni che contribuiscono alla missione salvifica della Chiesa. Ora, il diritto canonico, appunto il diritto ecclesiastico, ha massimamente al suo interno la coesistenza di due tipi di diritto, di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana, lo ius divinum e lo ius humanum. Lo ius divinum è il diritto divino, cioè quel diritto stabilito da Dio, normato da Dio. Lo ius humanum è il diritto umano, appunto, quello in cui la fonte del diritto, il legislatore, è l'essere umano. Ora, questi due diritti, in cui appunto il legislatore diretto è Dio e il legislatore diretto è l'uomo. Lo ius divinum e lo ius humanum non sono due realtà separate all'interno dell'unico diritto canonico, no, ma sono fortemente intrecciate e l'una dipendente dall'altra, perché lo ius humanum è sempre, per così dire, coordinato e trova le sue radici e non può mai andare in opposizione con lo ius divinum, con il diritto divino. Abbiamo visto la scorsa settimana lo ius divinum può essere naturale e positivo, quello naturale è la legge che Dio scrive nel cuore dell'uomo, Romani 2,5, quella legge naturale che è nella natura stessa dell'uomo e che l'uomo può riconoscere con la propria ragione. Poi c'è, nel caso nostro, lo ius divinum che ci interessa, è quello positivo, cioè quello che Dio ha annunciato per mezzo della rivelazione e che non deriva dalla natura umana, ma dalla elevazione dell'uomo all'ordine soprannaturale. Il diritto divino è il nucleo essenziale e positivo, è il nucleo essenziale e fondamentale del diritto canonico. Sotto due aspetti, cioè da un punto di vista positivo perché le soluzioni del diritto canonico umano si fondano sempre sul diritto divino e da un punto di vista negativo perché il diritto meramente ecclesiale sarebbe privo di valore se si opponesse al diritto divino. Però il diritto divino, come dicevamo, non costituisce un elemento a sé stante che può essere distinto dal diritto umano. Ora, nella raccolta dei canoni del codice di diritto canonico, di cui parleremo la settimana prossima, a volte si può dire che questa norma non è specificato se una norma è di diritto divino o di diritto umano, a volte si può dire che una norma potrebbe essere puramente di diritto divino oppure che possa essere un insieme del diritto divino o diritto umano. Entrambi appunto quindi formano un ordinamento giuridico organico unico e inseparabile che ha in sé elementi divini ed elementi umani esattamente come la Chiesa. La Chiesa, corpo mistico di Cristo, mistero teandrico, cioè divino umano. Ora, tutto quanto abbiamo spiegato adesso è la realtà oggettiva di cosa sia il diritto canonico e la sua legittimità, la sua legittimità all'interno della Chiesa. Questo è fondamentale perché nel corso della storia il diritto canonico, il diritto nella Chiesa, cioè le leggi nella Chiesa, cioè la posizione del diritto nella Chiesa è stata negata in diversi modi e in diversi tempi e da diversi ambienti anche all'interno della Chiesa cristiana, cioè per esempio gli gnostici, i montanisti, i doceti nel primo millennio, nel secondo millennio i catari, i valdesi, gli albigesi e anche per esempio i protestanti, cioè Lutero una delle prime cose che bruciò davanti alla cattedrale di Wittenberg fu proprio il corpo siuris canonici, cioè la legge della Chiesa via in fiamme. E ancora per esempio nel XIX secolo diciamo protestanti molto in avanti negavano la realtà del diritto della Chiesa perché volevano fare della Chiesa una realtà esclusivamente spirituale, cioè quindi in quanto totalmente spirituale, disincarnata non c'era diritto alcuno. Ma in realtà come abbiamo visto queste posizioni sono contrarie alla natura stessa della Chiesa e della volontà di Cristo. C'è da dire che queste posizioni a volte sono sorte come reazioni a un eccesso di formalismo ecclesiastico, soprattutto in quello che può essere detto legalismo o giuridismo. Il giuridismo è una vera e propria patologia del diritto che presta attenzione più all'aspetto giuridico formale che alla realtà vitale che si intende regolare, cioè il giuridismo non tiene conto di una realtà fondamentale di cui parleremo magari in una lezione futura, della equitas canonica, cioè la equitas canonica è una realtà del diritto canonico, cioè dell'applicazione della legge al caso concreto, va applicata con equità. Chi non sa essere equo cade nella patologia del giuridismo, è scritto è così, punto, e allora ciò che è scritto viene al di sopra di tutto anche a volte purtroppo del bene delle anime, questo non deve essere. Il diritto infatti non esiste per ostacolare i veri carismi o le libertà del fedele, ma piuttosto è uno strumento per facilitare e garantire il loro retto esercizio, è un po' come una protezione da derive verso cui si può andare quando non si è regolati appunto dal diritto, da una legge universale e uguale per tutti, ma dall'arbitrio del singolo. L'arbitrio è terribile perché se la fonte dell'agire è il puro arbitrio, ciascuno ha il suo ed ecco che facilmente si cade nelle ingiustizie. Quindi questo per quanto riguarda le critiche che al diritto canonico vengono all'interno del cristianesimo, per quanto riguarda invece all'esterno ci sono state critiche anche a partire soprattutto dal XIX secolo, a partire dagli stati, cioè l'iperpositivismo giuridico statalista per il quale la fonte del diritto è soltanto ciò che stabilisce lo Stato, disconosceva la giuridicità del diritto canonico sulla base di pretese e ragioni tecnico-giuridiche, cioè lo Stato è l'unica fonte del diritto e le norme canoniche non potrebbero essere qualificate come giuridiche perché avrebbero piuttosto un valore morale, etico, disciplinare o al massimo statutario, come uno statuto. Questo è frutto del pensiero appunto positivista del XIX secolo è massonico perché il libera Chiesa in libero Stato, cioè la Chiesa con i suoi beni siano normati dallo Stato libero, la libera Chiesa in libero Stato, cioè nel senso il libero Stato è al di sopra della Chiesa e quindi i regolamenti interni della Chiesa sono a livello di statuti e invece noi pretendiamo di dire che ci sono cose su cui lo Stato non può normare, non può controllare, non può dire nulla perché vengono dal creatore del cielo e della terra che è al di sopra dello Stato, questi beni appunto, il Vangelo, la predica della parola, i sacramenti, i carismi sono cose che appartengono alla Chiesa che la Chiesa ha diritto e dovere per ingiunzione del suo fondatore di normare. Quindi quali sono le caratteristiche peculiari e fondamentali del diritto canonico? Bene, il diritto canonico può essere definito come l'insieme dei fattori che formano la struttura giuridica della Chiesa e si distingue dagli altri ordinamenti civili o religiosi per alcune caratteristiche particolari. Queste caratteristiche sono l'universalità, allo stesso modo per cui la Chiesa è universale, cattolica, perché inviata da Cristo fino ai confini del mondo, fino ai confini del mondo, in modo trasversale, non in opposizione agli stati nazionali, assolutamente no, ma come lievito? Come lievito in tutti i popoli e le nazioni del mondo. E il diritto canonico non ha lo scopo di regolare quindi solo un territorio o una popolazione specifica o una etnia? No, riguarda universalmente il popolo di Dio, cioè tutti i battezzati, tutti coloro che entrano nel popolo di Dio e trovano cittadinanza nella Chiesa attraverso il battesimo e quindi è potenzialmente indirizzato a tutta l'umanità, per questo è universale. Poi nell'universalità ha altre due caratteristiche, l'unità che non deve essere scissa dalla varietà, cioè il diritto canonico forma un unico ordinamento fondato sull'unico disegno eterno di Cristo sulla Chiesa, esso ha gli stessi mezzi di salvezza ovunque, la parola, i sacramenti, i carismi e la stessa autorità suprema è gerarchico, quindi il legislatore supremo, il romano pontefice e il collegio episcopale e i medesimi obblighi e diritti fondamentali di tutti i fedeli. Se sono battezzato a qualunque latitudine, a qualunque longitudine, in qualunque luogo, di qualunque popolo io appartengo, ricevo gli stessi diritti e doveri di ogni altro battezzato, ma unità non significa uniformità, cioè la varietà, una varietà che implica l'esistenza di diritti particolari, cioè di situazioni particolari contingenti del luogo, dello spazio, del tempo, sì, ma in un unico diritto canonico. E poi, e poi, altra caratteristica del diritto canonico è la pienezza, cioè una pienezza di competenza e di sovranità, quindi non c'è nessuna materia o situazione giuridica relativa ai fini della Chiesa che la Chiesa stessa non sia in grado, e non solo che sia in grado, non sia nel dovere e nella possibilità di regolare e di normare. E la pienezza di sovranità, cioè non dipende da un ordinamento superiore, non è la libera Chiesa in libero Stato, è libera Chiesa in Stati che si occupano di cose civili ma che non devono mettere bocca e non hanno alcuna autorità sui beni fondamentali della Chiesa, è pienezza di sovranità, quei beni fondamentali che il fondatore è affidato alla sua Chiesa. Poi, altro elemento fondamentale caratteristica peculiare è la elasticità, cioè l'ordinamento canonico, vuoi che sono duemila anni che esiste, da quando Cristo ha fondato la Chiesa e esisterà fino alla fine dei secoli, è capace di grande adattabilità alle varie circostanze di persona, di luogo, di tempo e questo è messo in evidenza da istituzioni veramente tipiche del diritto canonico, come la dispensa, cioè la capacità di chi ha dato la legge di sollevare un determinato individuo da quella legge, dall'osservanza di quella legge in un caso particolare per esempio, o più volte, o una volta o più volte, il privilegio che viene concesso ad alcuni e non ad altri, l'equità canonica, cioè l'applicazione della legge al caso particolare con equità e la consuetudine, cioè il comportamento ripetuto nel tempo più volte da una comunità che diventa poi legge. Questi elementi, queste istituzioni totalmente canoniche ne fanno l'elasticità, rendono il diritto canonico flessibile, adattabile ai tempi e poi, ultima caratteristica veramente fondamentale del diritto canonico, il diritto canonico è pastorale, cioè il diritto è una dimensione essenziale della Chiesa e quindi fine della Chiesa qual è? La salvezza delle anime e il fine del diritto canonico è la salvezza delle anime, tanto è che l'ultimo canone del codice di diritto canonico ribadisce proprio questo, è che la chiave di lettura di tutta la legge nella Chiesa è, si ricordi che la legge suprema, suprema l'ex, è la salus animarum, cioè la salvezza delle anime. Per questo certe correnti di pensiero che nel passato hanno voluto opporre, o anche oggi qualche strascico che hanno voluto opporre la pastorale al diritto e sono false in se stesso, perché il diritto e la pastorale non sono in conflitto da di loro, ma sono uniti. Il diritto è pastorale e la pastorale che non tiene conto del diritto è ingiusta, è ingiusta e tradisce le intenzioni del fondatore. Il diritto canonico è essenzialmente pastorale, fare leggi è un aspetto dell'azione pastorale, come anche realizzare e garantire l'applicazione del diritto, sono funzioni che come la pastorale stessa hanno per fine l'edificazione della Chiesa. Se un ministro sacro trascurasse il diritto nell'esercizio del suo ministero dimenticherebbe un importantissimo presupposto teologico, che qualsiasi funzione nella Chiesa, qualsiasi, e soprattutto la funzione ministeriale e sacerdotale comporta una partecipazione alle funzioni di Cristo, alla missione di Cristo, alla missione affidata dal Padre a Cristo e da Cristo alla sua Chiesa. Se non trasmettessi ciò che ho ricevuto, ma mi inventassi qualcosa di nuovo, non starei portando Cristo, starei portando me stesso. Allora, cari fratelli e sorelle, abbiamo compreso, spero, come il diritto canonico sia parte essenziale, vitale della Chiesa. Il diritto canonico non è una cieca imposizione arbitraria e una sovrastruttura posta alla Chiesa, no, ma è una parte essenziale della vita della Chiesa, fa parte della Chiesa stessa, nella sua stessa natura e quindi dobbiamo accoglierlo come qualcosa di buono che ci è stato dato per regolare la vita della Chiesa, per, come protezione del popolo di Dio dagli arbitri degli esseri umani che quando seguono appunto il loro arbitrio non danno a ciascuno il suo, ma fanno di tutto il proprio, fanno di tutto il proprio. Allora, ecco, spero che questo concetto sia aggiunto chiaramente, cioè di quanto in effetti il diritto canonico sia parte costitutiva essenziale, aspetto essenziale della Chiesa per volontà di Dio stesso, per volontà del suo fondatore, per volontà di Gesù e che pertanto è per la nostra salvezza, infatti appunto la regola fondamentale è la salus animarum, la legge suprema. Detto questo invoco la benedizione di Dio onnipotente per intercessione della Beata Vergine Maria su tutti voi e vi do l'appuntamento alla prossima settimana con una piccola storia del diritto canonico come si è formato e una piccola introduzione del diritto canonico vigente. Detto questo vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Grazie.